Lavori al via sui passaggi a livello a Sondrio e modifiche alla viabilità che investiranno sia la tangenziale sia le vie interne della città. A partire da sabato 8 luglio ci sarà una settimana di interventi con ricadute sulla circolazione per i lavori sulla linea ferroviaria. I primi in programma sul passaggio a livello del Trippi in comune di Montagna, per i quali ANAS ha disposto la chiusura della statale 38 dal km 35 più 200 al km 40 più 100, allo scopo di ridurre i disagi per la città di Sondrio e di evitare congestionamenti della viabilità, come espressamente richiesto dall'amministrazione comunale, la chiusura della tangenziale di Sondrio avverrà solamente nelle fasce notturne. Il calendario ostilato da ANAS prevede lo stop alla circolazione dalle 20 di sabato 8 durante le fasce notturne fino a mercoledì mattina 12 luglio alle 7. Durante la chiusura il traffico della statale 38 lungo la direttrice Morbigno Tirano in entrambi i sensi di marcia verrà convogliato sulle vie interne della città, dalle vie Stadio, Adua, Mazzini e Selvio. Per consentire la normale circolazione della viabilità locale la statale 38 rimarrà aperta al transito veicolare in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra lo svincolo di via Vanoni all'incrocio con Albosaggia e l'innesto con la provinciale verso Piateda. Altro provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e pedonale riguarda il passaggio a livello che collega la via Germania con la via Stelvio anche in questo caso per i lavori urgenti di rinnovo del binario, sostituzione delle traversine e risanamento della massicciata. I lavori già programmati da tempo sono destinati a potenziare gli standard di sicurezza della circolazione ferroviaria e a garantire una riduzione dell'inquinamento acustico attraverso l'eliminazione delle giunte di dilatazione del binario. La chiusura del passaggio a livello sarà integrale e si protrarrà dalle 22 di domenica 9 luglio fino alle 10 di giovedì 13 luglio.